Inaspettatamente salta fuori il nome della cantautrice quando Gianni Sperti controlla con attenzione il cellulare del cavaliere. Ebbene sì, a uomini e donne accade proprio di tutto, soprattutto se al centro studio c'è Viaggio di Maro. Non ha mai convinto i presenti in studio e neanche il pubblico, eppure continua a tenere accesi i riflettori sul suo personaggio. Improvvisamente spunta una chat con Giosquillo. Andando per ordine, nel corso della puntata di oggi, Gianni Sperti e Tina Cipollari decidono di passare alla mossa successiva per smascherarlo, controllando il suo cellulare. Il tutto accade mentre si ritrova a raccontare le ultime vicende sulla sua conoscenza con Elena. Le cose tra loro non procedono bene e già nelle registrazioni precedenti avevano dimostrato di non andare poi così d'accordo. Gianni non approva per nulla il modo di fare del cavaliere e questo è ormai noto. Oggi alza il tono della voce e lo attacca apertamente, caffone. Si può finire di parlare con questo maleducato? Con chi parli alle due notte? Elena lo accusa di interrompere le loro chiamate per farne delle altre, non si sa con chi. Viaggio racconta che in quella fascia oraria sente al telefono suo figlio, lo scorso anno aveva preso le sue difese attraverso un'intervista, che si trova in Inghilterra e che finisce a mezzanotte di lavorare. La Cipollari non crede a questa sua versione dei fatti. E lui continua, solo una sera mio figlio mi ha chiamato che si sentiva solo, ho fatto un'ora di videochiamata. Dopo aver parlato con suo figlio, Di Maro si sarebbe addormentato. A questo punto, Maria De Filippi gli permette di andare a prendere il suo cellulare, così da avere le prove della sua versione dei fatti. Stessa cosa deve fare Elena. Il Cavaliere, però, su consiglio di Tina viene accompagnato da Gianni, in modo che non possa cancellare nulla nel tragitto dal camerino fino allo studio. Quando rientrano Sperti ha già il cellulare tra le mani e controlla con attenzione tutto, chiamate, social e messaggi. Non è la prima volta che l'opinionista controlla il cellulare di un partecipante. Questa volta, però, si ritrova a dover far presente che il telefono di viaggio è, abbastanza vuoto. Nel registro chiamate è presente solo una telefonata.